Benvenuti in questa nuova lezione. In questa lezione introdurremo brevemente il pensiero di Giovanni Scoto Eriugena, filosofo dell'alto medioevo, probabilmente uno dei più grandi esponenti della filosofia alto medievale, vissuto tra l'815 e l'887. Come al solito vi ricordo che nella descrizione del video troverete le slide e come pure il link al blog. Bene, diamo veramente alcuni cenni biografici, abbiamo già detto la data di nascita e di morte, da ricordare, perché cerchiamo di fare semplamente locale e di collocare storicamente le autorie, altrimenti rimangono sospesi, 1887 fine dell'impero carolingio, perché? Perché c'è la deposizione di Carlo il Grosso. Scoto Eriugena è inoltre membro della scuola palatina e invito a chi non sapesse nulla della scuola palatina a guardare il video su Carlo Magno nella playlist di storia medievale, dove si parla appunto poi di rinascita carolingia. È un articolo, è un video che in realtà vanno oltre Carlo Magno, ma coprono tutto l'impero carolingio. Torniamo a Scoto Eriugena. L'opera più importante è il Perifision, o anche noto come De Divisione Nature. In questo scritto cosa fa il filosofo? Tratta del rapporto tra fede e ragione, che è un po' quello che si definirebbe un autotopic nella filosofia cristiana tardo-antica e medievale. Secondo Eriugena, la seconda deve servire come guida alla prima, cioè la ragione deve servire come guida alla fede. La ragione del resto è pur sempre un dono divino e come tale non vi potrebbe essere, non dovrebbe esservi, non può anzi essere di contrapposizione tra fede e ragione. Nella stessa opera poi Eriugena espone la sua concezione della natura, che in realtà non è proprio così intuitiva, non è diciamo molto, non è appunto facile. Perché? Perché il filosofo con natura intende qualsiasi realtà cosmica, compreso quel nulla della creatio ab nilo, cioè quel nulla che era preesistente alla creazione stando alla Genesi. Questa coincidenza di natura con il nulla, cioè il fatto che la natura possa anche essere nulla, si traduce anche in una forma, con una forma di teologia negativa, dove per teologia negativa cosa si intende? Si intende la connotazione di Dio mediante gli attributi che non può avere, cioè Dio non è questo, Dio non è quest'altro, Dio non è quest'altro ancora. Gli argomenti che si adducono fuori dalla teologia negativa partono in genere, questo vale sempre, dalla constatazione che dare una definizione di Dio equivale a limitarne nel carattere assoluto, perché definire cosa significa letteralmente? Significa porre dei fini, dei confini, delle linee di confine, e quindi di conseguenza definire qualcosa significa letteralmente limitarlo. Ecco. E questo è anche l'argomento che propone Eriugena. Ecco. Sempre in quest'opera, sempre in quest'opera parla di quattro forme di natura, meglio scrive, di quattro forme di natura. Non creata che crea, ovviamente Dio, creata che crea, e questa è un'entità che, dal punto di vista ontologico e metafisico, si trova quasi a metà tra Dio e il creato. Perché? Perché qui il filosofo si riferisce alla seconda persona della Trinità. La Trinità è una questione teologica complessissima che abbiamo tanto fatto travagliare i vari teologi medievali. Però di fatto qui Eriugena intende il logos, o figlio o verbo divino, che pur essendo creato è anch'esso capace di creare. Ecco. Poi abbiamo creata e non creata, creata che non crea, scusate. Ovviamente si intende il creato in questo caso. Tutto ciò che esiste e che non si è, che diciamo, è stato creato. Ecco. Quindi l'uomo è compreso nelle cose create che non creano. E poi, non creata che non crea è il fine ultimo della creazione. E questo è appunto il punto quattro, che è il punto più oscuro. Perché? Perché possiamo, diciamo, dovremmo limitarci ad affermare che, secondo Eriugena, il fine ultimo della creazione, alla fine, è un ritorno. È un ritorno a Dio. E dunque a quella totalità indefinita. È un ragionamento, è una forma di pensiero che i più accorti hanno già associato ad Anassimandro, per esempio. Ecco. Anche se qui il riferimento probabilmente che aveva in mente o l'influenza che ha subito Eriugena è certamente quella neoplatonica. Abbiamo detto che, tra l'altro, Eriugena è colui il quale promuove la diffusione del neoplatonismo greco in Occidente. L'ultima cosa che diciamo riguarda l'ottimismo antropologico, cioè il fatto che l'uomo è il rapporto, in quanto creazione, di continuità con Dio. L'uomo, in quanto prodotto della creazione, è un rapporto di continuità con Dio. Infatti, l'uomo è l'unica creatura che è dotata sì di sensibilità, come tutti gli animali e le piante, ma anche di ragione intelletto. E la ragione permette all'uomo di comprendere la realtà in quanto creazione divina. Qui viene indicato con il termine logos, ma con la lettera minuscola per non confonderlo ovviamente con il logos più importante che quello divino, il verbo. Poi abbiamo l'intelletto, cioè il nus, un termine che conosciamo bene dalla filosofia antica, che ci dirige a contemplare Dio che però rimane ineffabile, indefinibile appunto. ciò nonostante, secondo Eriugena, sono presenti in modo innato, anche se con diverso, ovviamente più basso, grado di perfezione, tutte le idee eterne, tutte le idee eterne della realtà sensibile. E con questa lezione è tutto, arrivederci alla prossima.